Un buongiorno a voi da vostro professor Stunzio Miau Miau. Titolo La Spinta. Il giovane artista talentuoso cerca la spinta giusta per sfondere nel mondo della televisione. Così chiede agli addetti ai lavori, insiste e non smette mai di chiedere. Purtroppo la sorte sembra non sia dalla sua parte, ma inaspettatamente dopo tante e tante teste rotte viene ricevuto dal più grande e mitico personaggio TV. Non si fa perdere l'occasione e gli chiede subito la spinta giusta. Lui lo guarda e gli dice Sì, per te posso farlo. Seguimi. I due si recano verso la finestra. Ora sale solda avanzale. Chiude gli occhi e... E vaffanculo! È un anno che mi rompe il caglio. Ciao!